ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo post partita oggi commentiamo una bruttissima sconfitta modena samb 4 a 1 io all'inizio partita anche i giorni prima dicevo spero che di fare una vittoria in modo tale che anche il mister potesse un attimo ecco avere un po più di fiducia in tutti così poteva anche riscattare diciamo il brutto esonero e la brutta sconfitta dell'andata ma purtroppo questa volta abbiamo fatto peggio dell'andata e va bene è andata così cioè non va bene perché non facciamo risultato da 5 partite ormai di fila e tra due punti che abbiamo regalato e che abbiamo perso cioè abbiamo fatto un macello e oggi c'è stata penso una conferma importante purtroppo che ci va contro una conferma che questa samb rispetto alle prime 4 almeno modena perugia padova e chi ci sta pure su tirol noi perlomeno io penso che non siamo all'altezza di queste 4 squadre e non siamo all'altezza di queste 4 squadre oggi questa cosa penso che sia confermata penso poi potremmo pure vincere domenica col su tirol me lo auguro però sapete qual è la differenza che ve l'ho detto anche in live per chi c'è stato penso che già lo saprà la differenza di oggi che ho visto oggi tra modena che vuole vincere e samb che vuole vincere non è tanto tecnicamente ma è tanto di testa il modena di testa sta più avanti rispetto a noi e una cosa che che proprio me l'ha confermata questa cosa sapete qual è è che loro sul 2 a 0 sul 2 a 0 loro dicevano potevano dire tranquillamente vabbè abbiamo fatto 2 a 0 ci portiamo il risultato a casa così no invece invece hanno fatto il 3 a 0 e sul 3 a 0 hanno messo altri cambi offensivi e hanno fatto il 4 a 0 hanno fatto il 4 a 0 è lì che proprio dicono oh non possiamo stare sicuri anche sul 2 a 0 non me ne frega un cazzo se tu già hai preso due colli io te ne vado a fare altri te ne vado a fare altri e ti porro fino alla fine ti massacro ti massacro e questo è e noi invece la nostra mentalità purtroppo non è questa non è questa raga perché col fano stavamo 1 a 0 col mantova stavamo 1 a 0 col vantaggio di un uomo poi e non è che siamo andati lì o bisogna chiudere la partita andiamo là e massacriamoli no no abbiamo diciamo usato quell'atteggiamento sbagliato ci hanno pareggiato e niente anche con l'uomo in più anche con due uomini in più eh purtroppo è questa la verità ragazzi e poi facciamo sempre i soliti errori vabbè è inutile che lo sto a ribadire perché ormai dovreste conoscere i vostri polli come li conosco io dovreste conoscerli i nostri polli purtroppo sono questi è andata così c'è il rischio di uscire dalla zona playoff c'è questo rischio io non voglio che usciamo voglio giocarmela ai playoff anche se sono sicuro al 100% che non vinceremo ad oggi sono sicuro che non possiamo vincere questi playoff andando avanti così sono sicuro che con questo atteggiamento qua e che poi possiamo anche di oh al primo tempo ci abbiamo provato il primo tempo vi dico forse il risultato più giusto era il pareggio perché un gol nel primo tempo ce lo meritavamo di fare però al secondo tempo disastro totale disastro totale proprio infinito e purtroppo è andata così raga è andata così il modena sta più avanti rispetto a noi una differenza importantissima che hanno che ho notato è che comunque il modena dietro non fa passare nulla sono organizzati al 100% tu puoi fare tutto quello che vuoi devono sbagliare loro devono sbagliare un passaggio per piegola infatti hanno sbagliato una cosa sola e hanno preso gol ma per il resto noi potevamo pure stare fino a domani mattina lanciò dentro lanciò dentro la palla non passava non facevamo gol abbiamo fatto gol con l'Escana che non è che a me è piaciuto tanto oggi il gol è relativamente utile cioè è poco utile alla fine comunque è un gol della bandiera ci può anche stare ma non è che comunque va a rinfluire molto sulla sua prestazione e oggi tutta la squadra non mi è piaciuta nel complesso a livello di prestazione ma non tanto per altro però comunque il secondo tempo disastrosi siamo stati e già se facevamo un peletto meglio forse non era del tutto disastrosa la partita ma purtroppo lo è lo è primo tempo che è stato comunque equilibrato abbiamo avuto diverse occasioni abbiamo fatto un tiro con Giulio che è uscito di poco Coso Fazzi ha messo un pallone bellissimo per Trillo che è partito un po' troppo in ritardo non l'ha presa la palla ragazzi le occasioni abbiamo avuto nel primo tempo un pelino di più rispetto a loro però loro con due occasioni stavano per fare gol e con uno ci hanno fatto gol quindi c'è poco da dire ma non sta più avanti di noi questa è la verità bisogna accettarla per quello che è quindi è inutile mostrare alzare polveroni come in questa settimana molti di voi hanno fatto tra insulti e quant'altro quindi è inutile è inutile fare polveroni questo anno è andato così pazienza pazienza a me vi ripeto mi dispiace per chi ci lavora tanto dietro per il presidente che ci mette i soldi comunque però come vi ho detto in live secondo me questo presidente intanto ha messo le basi intanto ha investito sulle strutture come ha detto lui era stato molto molto intelligente poi la squadra ci ha provato ha dato una giustata così voi potete anche non essere d'accordo sugli acquisti vi ripeto che per molti di voi la squadra è indebolita e può anche essere giusto questo ragionamento dipende da punti di vista ed è normale però comunque vedo che lui ci crede è un presidente che ci crede a me mi piacciono tantissimo ok? che comunque ci si impegna ci lavora non è una cosa tanto lasciata lì così ok? e quindi come vi ho detto nel giro di qualche anno 3-4 anni massimo penso che lui vorrà salire cioè già quest'anno ha investito abbastanza soldi non è che per di che sta squadra è scarsa perché vi ripeto per me non è scarsa se vediamo tutto assieme però ovviamente sono giocatori bravissimi qualitativamente sono molto molto forti e altri che ecco hanno difficoltà sotto il profilo della concentrazione sotto il profilo tecnico ce ne sono molti assolutamente questo è poco ma sicuro però secondo me questo presidente vuole comunque anno per anno migliorare la rosa non credo che tutti in una botta si va a spendere un pozzo di soldi ok? perché già penso che tra tra st'estate e tra sto inverno ha speso veramente abbastanza credo quindi non partirei col presupposto subito riprendere giocatori fortissimi e pezzare lì dentro perché poi non è detto che se uno spende di più vince sicuro non è così che funziona il calcio però è andata così e penso che le paggelle sia inutile da farle cioè siano inutile da farle perché la partita parla da sola è insufficiente sicuramente il voto di tutti posso apprezzare l'impegno di molti che ci tengono però la sconfitta non è di qualcuno sì qualcuno no ok? la sconfitta è di tutti allenatore staff di tutti tifosi giocatori presidente la sconfitta è di tutti quindi si prendono giustamente in causa chi scende in campo il voto è insufficiente stop voi direte come possiamo uscire da questa situazione io a mio parere la scuola è davanti al ritiro perché oggi 4 pere cioè 4 pere oggi 3 pere mercoledì 7 gol in 2 partite e 2 fatti cioè c'è qual quadra che non cosa no? c'è qual quadra che non cosa quindi un bel ritiro secondo me ci potrebbe far bene ma non tanto per per altro ma giusto per concentrarci un pochino di più su quello che dobbiamo fare perché la squadra non la vedo concentrata sinceramente a parte qualche elemento ma ve l'ho detto bisogna includere tutti nella squadra quindi tutti quanti si devono un po' riorganizzare io è questo è questo quello che dico oggi neanche mi voglio dilungare più di tanto voi mi state dicendo in live mi avete detto eh montero via montero di là montero di su ragazzi Serafino non va a spendere altri soldi per un altro allenatore mettetevi l'anima in pace non ne va a spendere altri soldi mo finiamo la stagione è così la squadra è questa rimarrà tutto questo uguale prossimo anno si valuterà chi tenere chi mandare via e vediamo se possiamo alzare la sticella raga così non è che qua la cosa sbagliata la mentalità è sbagliata sapete qual è questo benedetto che o sarebbe o vaffanculo tutto cioè così capito o andiamo in serie B oppure la samba fa cagare o in qualsiasi posizione si mette si potrà anche mettere seconda no no andiamo in serie B vaffanculo tutti che impazziscono raga dovete capire che dovete stare tranquilli non funziona così il calcio cioè il tifoso poi non si può comportare in questa maniera o vinciamo o facciamo tutti cagare cioè non funziona così bisogna lavorare tanto io l'ho detto qua a San Benedetto bisogna crescere sotto questo punto di vista i social purtroppo danno libertà come giusto che sia a tutti riparlare però ci sta gente che che purtroppo va oltre oltre l'essere tifoso va proprio uno può criticare il modo in cui gioca una persona il modo in cui si approccia una partita il modo in cui si vince il modo in cui si perde perché tanto anche se si vince ragazzi saranno sempre delle critiche dietro ma è anche giusto che ci siano fino a un certo punto perché se poi una partita la domini 100% non so che quale critica si voglia trovare boh però comunque c'è chi veramente va oltre va veramente oltre le righe e oltre ai giocatori che si devono fare un ritiro per per concentrarsi più su quello che che dobbiamo fare quindi scendere in campo con tante cose riprendere un po' la mentalità giusta anche i tifosi in un certo senso noi tifosi ma mi ci metto pure io perché siamo una squadra una famiglia anche noi i tifosi bisogna fare un ritiro un attimo cercare di di tornare lucidi e di non sparare a zero ad ogni partita della Samba perché così non andremo da nessuna parte cioè potranno venire i presidenti potranno investire qua potranno fare un sacco di roba ma se i tifosi rimangono questi ragazzi sta poco la di non potremo mai puntare in alto quindi a questo è anche questo anche questo perché oltre ai tifosi ci sta anche il fattore tecnico il fattore campo cioè ci stanno tante cose che non stanno andando bene quindi oggi abbiamo capito che la Samba ha questa squadra andremo avanti così purtroppo non siamo all'altezza di poter salire direttamente in Serie B e forse neanche di poter competere con altre squadre come Modena come avete visto il Perugia pure c'è uno squadrone il Padova tanto meno stessa cosa su Tirol magari potrà avere un periodo di sì e no ma comunque come squadra è anche forte il Verona ragazzi voi potete dire chi cazzo è il Vecomb Verona ma il Vecomb Verona ragazzi non ha perso ancora una partita da inizio girone di ritorno non ha ancora perso una partita oggi mi pare che ha vinto quella tristina almeno che non sia cambiato il risultato ma fatemi controllare perché non mi sono manco aggiornato Verona ha pareggiato due a due perché gli hanno pareggiato al novantunesimo però questi qua pure ragazzi sono tosti questi sono tosti questi mo stanno sesti in classifica a tre punti sopra noi la tristina pure mo si sta a riprende comunque è una bella squadra anche questa e raga mo stiamo settimi non so come però comunque stiamo messi male stiamo messi male ci abbiamo a quattro punti il manto e a cinque punti il matelica quindi non possiamo stare sicuri di nulla non possiamo avere certezze e bisogna un attimo rivedere i nostri piani quindi questo è vabbè comunque giochiamo sabato alle 15 e samba su tirolla noi ci vediamo qui in live come al solito oggi ho avuto un po' di problemi sia nell'attacca alla stream e poi durante la live mi sono andati mi è andata per la connessione per un paio di volte quindi mi mancano alcuni pezzi della live che tipo mi sono perso un gol del Modena e tante altre cose quindi il video in reazione oggi non lo faccio perché ragazzi sono il tipo che se mi mancano dei pezzi della live il video non lo faccio o viene come dico io e viene completo oppure non viene così è successo pure questa è la seconda volta che succede perché è successo pure a Trieste che abbiamo vinto mi sono perso il gol di Rescana per dirvi quindi quindi così noi ci vediamo alla prossima vi ringrazio per la visione continuate ad iscrivervi ragazzi lasciate un mi piace condividete il video seguitemi su Instagram Facebook trovate tutto qui in descrizione io vi ringrazio perché comunque avete reso la live di oggi meno meno amara meno catastrofica perché dopo una sconfitta del genere almeno ci siete voi che comunque tenete compagnia e ci divertiamo ragazzi è veramente un piacere per me che non potete manco immaginare vabbè comunque questo è ragazzi ci vediamo alla prossima forza Samb sempre